Pronto, buonasera, parlo con mister Pioli? Sì, salve Pioli, salve mister, ma mister come mai stasera il Milan ha pregiato 2 a 2 la partita più importante della stagione? Come mai stasera i ragazzi si sono cagati in mano? Ah, si sono cagati in mano perché Milan pensa a fare lo step in più, ovvero quello di fare più punti dell'anno scorso in campionato. Ah, ok mister Pioli, quindi i ragazzi si sono cagati giustamente in mano perché non aveva nessuno che li motivava stasera. Ah, ok, va benissimo mister Pioli. Guardi mister Pioli, se magari la prossima partita i ragazzi entrano con più voglia di vincere in campo, ci faccia sapere a tutti noi tifosi rossoneri, oppure se dobbiamo salutare lo Scudetto e metterci in cuore, in pace. Veda lei Pioli, facci sapere e noi se dobbiamo abbandonare le speranze Scudetto ci mettiamo il cuore in pace. Facci sapere Pioli, mi raccomando, le auguro una buona notte e buon sabato sera. Arrivederci mister, arrivederci. Ragazzi, tre punti buttati in questo fottutissimo cesso stasera. Ma che partita di merda stasera ragazzi, occasione sprecata, tre punti buttati in eccesso. Ma ragazzi, ma noi che cazzo l'abbiamo dovuto fare i derby? Se poi dobbiamo buttare i punti contro la salenità. Ma me lo spiegate un po', ma mi spiegate perché il Milan stasera è entrato così in mollo in campo? Leao stasera irriconoscibile, Magnan stasera irriconoscibile. In porta sembrava che ci fosse Donnarumma stasera a posto di Magnan quando faceva le uscite a vuoto. Ma mi spiegate stasera perché abbiamo dovuto buttare tre fottutissimi punti in eccesso? Cioè ragazzi, stasera il Milan è entrato in campo con la stessa energia che avevano i Teletubbies. Stasera il Milan sembrava allenato dai Teletubbies che invece da Mister Pioli. Avevano la stessa voglia, la stessa energia in campo stasera i giocatori del Milan dei fottutissimi Teletubbies. Ve li ricordate? Quei quattro pupazzi che ogni domenica mattina andavano in onda sulle reti della Rai e lì belli felici, belli allegri, pascolavano come delle fottutissime caple. Ecco, quelli stasera erano i giocatori del Milan, dei fottutissimi Teletubbies. Non voglio neanche parlare, non voglio neanche fare l'analisi tecnica della partita. Partita che sembrava incompleta discesa con gol di Messias. Poi Bonazzoli grazie alla complicità di Magnan che ha fatto un'uscita vuoto stasera. I gol della vita in semi rovesciata. I gol della vita. Come se non bastasse nel secondo tempo Dragusin che salta da solo di testa in mezzo a Tomodi e soprattutto quel cadavere di che sì. Pioli che nel primo tempo mi ha tolto, Benazèd uno dei migliori in campo e mi va a mettere dentro che sì che ormai non deve vedere il campo neanche per sbaglio. Ormai che sì è un fottutissimo ex giocatore del Milan. È un ex giocatore del Milan e che sì non deve vedere più il campo. Poi non è solamente colpa di che sì e va bene perché Dragusin su gol di 2 a 1 salta sia in mezzo a Tomodi e sia in mezzo che sì. Però che sì l'uomo si marca da dietro le spalle, mai davanti che sì l'uomo si marca da dietro le spalle. Non te lo insegna in allenamento mister Pioli che il giocatore si marca dietro le spalle e mai davanti perché se il pallone ti scalarca e il giocatore dietro la colpisce di testa così come è successo con Dragusin. Tu che sì te la prendi nel culo. E per fortuna che Revic ha azzeccato il tiro, ha azzeccato il gol del pareggio. Se no stasera neanche la pareggiavamo noi questa benedetta partita. Stasera tre punti buttati in eccesso. Stasera sono incazzato nero. Per me i peggiori stasera sono sia Leao e sia Magnan. Leao non ha azzeccato uno stop, non ha azzeccato un passaggio manco per sbaglio. Magnan invece stasera sembrava Donnarumma che c'era in porta. Uscita a vuoto, un'altra uscita a vuoto che aveva fatto dove Bonazzoli a momenti segnava di pallonetto bravissimo Romagnoli a togliere le castagne dal fuoco, a salvare la porta del Milan anticipando di testa e tiro di Bonazzoli. No ragazzi stasera ci è andato tutto male, stasera partita imbarazzante, partita inguardabile. Voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita o scena di stasera. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ragazzi, che dire, facciamo ciao ai sogni di Gloria, facciamo arrivederci a sogno scudetto perché questo succede quando tu, Mardini, quando tu, Società, non fai un minimo di mercato a gennaio. I giocatori arrivano spompati nelle partite decisive e ci gira tutto poi storto come è successo effettivamente stasera. Questo succede quando hai la presunzione di non fare il mercato. Ed ecco qua la prova. Stasera la squadra era evidente che la spompata fratica era spompatissima. Noi purtroppo, ragazzi, non abbiamo i ricampi all'altezza e fino a quando sarà così in Milan mai e poi mai avrà la possibilità di vincere lo scudetto. Comunque il video finisce qua, miei cari ragazzuoli. Sono incazzato, sono incazzato nero, deluso, amareggiato. Voi comunque continuate ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli, ma che amarezza, ma che amarezza!